è il fratello del Vecino Praghietti, forse lo dico Vecino Praghietti è il fratello lui ha detto, quella gente lì, che non è, cioè lui vabbè sta con per adesso sta con centro-sinistra, ma c'ho un tono lì che sta con centro-destra, che il Vecino viene da da LMSI, c'era ha passato ha detto Gabbianelli e Soggio ha detto, quelli sono fascisti, non sono veri